Eccoli qua sono pronti sulla torre Partiti! Partiti! E adesso andremo a vedere, andremo a vedere, li aspettiamo Li aspettiamo, andiamo a vedere chi sarà il comando Ma questa sarà una gara tirata Ruota ruota, fianco a fianco fino alla fine E' da primo all'ultimo giro, dal primo all'ultimo metro Fuolo quasi invece vuole recuperare velocemente Con il numero 697 Matteo! Matteo! C'è Bagarra, c'è Bagarra laggiù C'è tanto fumo Malto e Matteo al comando E' partito forte, partenza Razzo la sua I primi tre sono lì, i primi tre sono tutti vicini Tutto da giocare Altro e Matteo Prima E' tanto da tutti A seconda parte Ma c'è notte anche dietro, c'è notte anche dietro, non sono lavanti Altro e prende qualche metro di vantaggio C'è una quarantina in metri di vantaggio per Altro e Matteo Seguito dal numero 623 Vabbiamo da Daniel E' lì, e' lì, non si può Poi numero 1, l'attaquattro E' lì, Filippo Attenzione bandiera gialla, bandiera gialla Pilota esce, tutto ok Ed eccolo qui, alto e Altro e Matteo al comando Ma dietro, per il secondo posto c'è Bagara Sono i due Sono i due Il pò E' un pò Ma o Ma Ma And E Matteo badagna ancora qualche metro Danza su questa pista, Matteo E vai, seguitate E al quinto posto con il numero 248, Marison, Matteo Poi c'è il numero 600 E il quinto posto con il numero 694